Eccocci qua! Sì, la sensazione è come se fossi io un turista che viene dall'altra parte del mondo che me ne sto andando Sì, ma tu sei brava in questo, perché riesci a da bene, perché sai che succede, Sardegna? Laura è tornata! Meglio, benissimo! Sì, 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 sì Ma se poi si vede da Dio comunque, Raffa? Sei molto recettiva! Basta poco! Se vanno in una sera, hai questa reazione, compri meglio! Sì, è brutta! Ma che è una saluce negli occhi, Raffa? Che succede? No, ieri comunque ero anche innervata dal cane, tutto il giorno, per cui ero stanca. Ora solo per risultare perché ho mostrato una premisoluzione per me. Sì Mi raccontavo, vedi, che mentre io lavavo i piatti, tu gli hai fatto la sequenza delle sedute! Come? Ah, la sequenza! Certo! Perché no, il culo, duro come la pietra, può essere stato inserito a terra. Poi c'era la versione della sedia, quella conca, che poi ti andavi così. E poi c'era l'altra, quella bombata, che ti ritristinava e ti faceva uscire tutto. No, è che io mi passaggio nel condizionatore, con lo specchio, la davanti che lo specchio e lo specchio. Ti guardavo e lo specchio! Certo! No, lo specchio è anche del fustatavo, perché lì mi vedo come sto messa. Che mi vedo, se ho l'atteggiamento del prezzo, se ho l'atteggiamento... No, quello specchio è... Ah, un po' perché al di là, diciamo, il fatto che sta bene verso là. No, no, lo so perché. Sì, sì. Ma sai quanto specchio ce l'ho accaduto? Sì. Anche l'ultima buzione ce l'ho specchio. Un po' specchio comunque. L'ultima buzione. E poi è l'ultima buzione. E poi è l'ultima buzione. No, perché mi dà profondità. Ah, sì. L'oblò, lì, il perfetto blò nel bagno. Quello lì. Oh, yeh, yeh. Ma tu sei bravo, proprio bravo. Proprio bravo. Ah, ma non si vede comunque perché è nero. Ah. Guarda, guarda Fabio. Guarda. Oh, mio Dio. Mi faccio un cane, Fabio. Ah, 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 ah. Mi dà aspetti incondizionato, guarda, mi dà. Vero? Esattamente è vero. Mi fanno solo gli occhi con i denti. Ah, 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 ah. Che c'è? Ma che c'è? Meraviglia. Io oggi, dicevo, lui mi meravigliavo dopo la mia sponsor, no, di vita. di come mi sto ponendo, no, nello studio, mi sento rinata praticamente. Cioè, proprio... A proposito di questo, ho incontrato... Arturo? Quando ora? Ho incontrato mentre... No, ora. No, ora. Ho incontrato qua. Uh-huh. Stavo... Stavo del cane in piacetta per il bisogno. Uh-huh. Con chi è da solo? Lo so, da solo. Devo dire che secondo me questo effetto tuo di energia ha spento un po' lui. Sì? Ma che aree io? Chiarico, lo sciopato. E' male. E lui sta stessa dicendo... No, no, sono p***a. Sì. Io sono proprio radiosa. Poi ti pensa che lui è venuto con un titolo nel formato, ho visto che c'era la ragazzina che è scesa giù tipo bambina andata, no, ad accompagnare e poi lo viste a salire. Sai tipo quando la figlia aspettava il papà, anche il tipo di contento, perché era... Eh, lui è stancata la figlia. Ma sei un tizio? Io, sicuro. Io penso che sono uscita a pranzo e lei saliva tutta... Sì. Io sono stessa... Ah, shining, radiosa! Che c'era il tizia lì che mi chiamava per fare la corte, quell'altro angelo che mi fa la corte, che mi chiamava. Lei... C'è un dito a bordo qua. C'è... C'è... Quanto c'ha quattro anni? Due anni? Quanto c'ha? Lui dice. Mmm... E invece questo... L'altro è Gigi? E lui era piccolo dei poveri. Gigi? Io non l'ho visto. No, ancora no. Ah no, che tanto bravo. Che faccio? Bro... Stai perdendo? Sì. Andiamo. Che faccio? Spengo qua? Come dici tu? Sì. Pagasti solo. Pagasti lo sciskti. Ok. 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 Grazie. 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 Vi posso dire che è tutto scuro. Ho tu bello. Peccato che è buio! Mh. E poi come ci chiamiamo voi? Quello di Annoella è Maria di Numeroglio, io quello della villa è. Ora mi dovresti fare il ritorno, poi oltre devi fare il ritorno, certo, Laura ritorno. Ma non me la farò, non me la farò. Ok. L'audio? L'audio? Mentre l'audio? Si. Non lo penso. Vediamo farla tutto a schermo. Forse è impostato... bisogna impostare l'audio. Ah. E' anche questo... Ma non puoi essere questo buio, ma no! Ma non puoi essere questo buio, ma... Ma... E' come quello è il buio? No, ma devo sentire l'audio. La caricatura? No. Quale? E' l'altro. Piazza Volgo? No. Qua? Laura ci dovrebbe essere scritto. Non c'è scritto. Come non c'è scritto? No. Ah, Laura parte. Laura parte. Sì. Laura parte. Laura Duolk. Qua c'è la chiavetta. Ah, perché sono legato io? Sì. Guardate. 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 Guardate.